Tornare su Destiny dopo diversi mesi di inattività è come rincontrare un vecchio amico. Forse proprio perché in questi giorni, dopo la patch che prepara lo sparatutto bungee all'arrivo di Rise of Iron, i server sono tornati a popolarsi, nelle parti chat si sentono voci familiari, eppure i gruppi su Whatsapp in cui si organizzavano i ride si sono miracolosamente riattivati. Ma oltre al fermento che pervade e anima la community, il piacere è quello di ritrovare tutto al suo posto, il gameplay fluidissimo e perfetto, gli headshot tempestosi, il fascino indiscutibile di uno dei migliori universi sci-fi partoriti in seno al nostro medium. Criticato ferocemente da chi non ha sopportato la struttura da MMO o da chi non ha perdonato l'affanno nel proporre nuovi contenuti, Destiny viaggia a testa alta anche dopo due anni dall'uscita, consapevole di essere a livello di gameplay e immaginario uno dei prodotti più riusciti di questa generazione. Lo zoccolo duro dei fan, insomma, si è stretto di nuovo attorno al titolo Activision, nell'attesa che i signori del ferro arrivino a dare una nuova sferzata all'universo di gioco, riaccendendo gli animi dei guardiani per qualche mese ed inaugurando ufficialmente le attività dell'anno 3. Il nuovo spazio sociale liberato dal giocatore alla fine della prima missione di Rise of Iron è il centro nevralgico dell'espansione. Qui si trova Lord Saladin, antico custode che ci chiederà di liberare la terra dalla piaga dei Siva, ma anche un nuovo cryptarca, proprio di fronte all'ingresso di una sala in cui si ricordano e si celebrano i signori del ferro. L'impatto scenico dell'aria è di quelli da ammozzare il fiato. Un vento gerido spazza costantemente l'ampio cortile, dove un bracere acceso ci ricorda il sacrificio dei vecchi guardiani, e guardando oltre i bastioni pietrosi, lo sguardo si posa sulle Plague Lands, invasi dalle nebbie e dai fumi della forgia di Arkon. Uno degli aspetti che Bungie sta cercando di curare maggiormente quindi è quello narrativo. Se già in The Taken King la trama veniva raccontata in maniera più attenta, Rise of Iron compie un ulteriore passo avanti. All'inizio dell'avventura ci accoglie un meraviglioso filmato che ci racconta nello specifico dei Signori del Ferro, e durante tutta la questline principale troveremo cazzine e dialoghi pensati per esplicitare, finalmente, la mitologia che sta alla base di questa nuova espansione. I rituali del vecchio Lord Saladin, così come i simboli incisi sulla sua corazza e sulle armi leggendarie, saranno quindi spiegati in maniera più attenta, in modo da rendere il giocatore molto più partecipe e svelare un altro tassello del meraviglioso universo di gioco. Anche la sequenza delle missioni è pensata per essere più coerente, così da creare una main quest meno frammentata. Nonostante la durata della missione principale non superi quella della precedente espansione insomma, è innegabile che l'incedere sia assemblato con più cura e attenzione. Il team di sviluppo è come sempre bravissimo a giocare con l'iconografia classica del prodotto, riuscendo a dare un look tutto nuovo alle zone del cosmodromo, e persino scherzando con le ossessioni dei fan di lungo corso. Il ritorno di Sepkis I, in una versione deforme e restaurata dai SIVA, è uno di quei momenti che non potranno strappare un sorriso ai giocatori che frequentano il titolo dei tempi della beta. Fra gli assalti rivisitati che saranno inclusi nelle nuove playlist, peraltro, c'è pure The Devil Slayer, ma stavolta non si tratta come succedeva nel re dei corrotti dello stesso strike con l'apparizione improvvisa di nuovi nemici. Tutte le fasi sono state irriscritte e ad esempio troviamo al posto del camminatore una strenua resistenza dell'alveare. Anche le routine del boss finale, la versione re di viva di Sepkis, sono state aggiornate e si basano adesso sull'utilizzo di nuovi cannoni elementali. Anche le Pluglands, proprio come la Dreadnought di Oryx, nascondono molti segreti. Uccidendo unità d'elite che di tanto in tanto compaiono nelle varie zone ad esempio, possiamo raccogliere le Splicer Key, che ci permettono di disattivare dei campi di forza e accedere a piccole aree disseminate nella zona. Qui, dopo aver sconfitto un aggressivo manipolo di avversari, potremo aprire qualche forziere e pure cercare le unità dormienti SIVA, che sostituiscono i frammenti calcificati della vecchia espansione. Anche se le pattuglie si svolgono sempre con le stesse modalità e l'introduzione della nuova tipologia di missioni quarantena non cambia davvero nessun equilibrio, siamo piuttosto certi che le Pluglands brulicheranno di guardiani, intenti a cercare in ogni anfratto. Anche solo per trovare gli otto medaglioni d'argento che costituiscono la base di partenza per riforgiare il mitico Gjallhorn, avviando quindi un'interessante side quest che nessuno vorrà lasciarsi sfuggire. Il recupero dell'equipaggiamento esotico e leggendario sarà contifatti l'attività che nei mesi successivi al lancio terrà impegnati i giocatori, e a tal proposito speriamo che Rise of Iron ci stupisca con qualche sorpresa, come le missioni per mettere le mani sul fuso martellante e sul simulatore dormiente, comparse dal nulla dopo qualche tempo dalla pubblicazione di The Tekken King. Interrogato sulla questione il team di sviluppo sorride e non si sbottona, confermandoci però che gli oggetti interessanti saranno moltissimi. Ognuno di questi artefatti ha poi un'abilità molto particolare, in grado di cambiare alcuni aspetti dell'esperienza di gioco. Ce ne sono di orientati al PVE, come quella che può trasformare in un alleato un nemico di basso livello colpito da un attacco corpo a corpo, e altre pensate per il PVP, come quelle che riducono il tempo di recupero per lo sprint o che abbassano i danni continuativi, come il veleno dell'aculeo o le fiamme di bruciatura. Come questi nuovi artefatti influiranno sul bilanciamento complessivo delle partite in crogiolo è difficile dirlo e potremo sicuramente aspettarci qualche nuova patch a breve distanza dall'uscita dell'espansione, ma in ogni caso è interessante che il team di sviluppo si sia preso delle libertà, cercando di proporre qualcosa di nuovo e provando a mescolare le carte in tavola. Oltre al recupero dei medaglioni e delle armi esotiche, ricordiamo che tutti i progressi della nuova espansione verranno segnalati su un apposito libretto, molto simile a quello dei momenti di trionfo, che registrerà ogni progresso e permetterà di ottenere varie ricompense. Ci sembra un sistema intelligente per veicolare un buon senso di progressione, orientando gli sforzi dei giocatori verso l'esaurimento di tutte le attività. Prima di chiudere un accenno anche alla Arkon Forge. All'interno delle Pluglands si trova quest'area particolarmente evocativa, dentro la quale immensi estrattori raccolgono e processano materie prime, riversando poi fiumi di lava incandescente che arrivano fino al mare. All'interno di questa forgia i caduti sembrano assemblare nuove unità meccaniche e contaminando il processo produttivo con alcune cellule lessiva è possibile attivare uno scontro. La forgia di Arkon è in buona sostanza una versione riveduta e corretta della corte di Oryx, che propone combattimenti su scala leggermente più vasta e controondate di nemici più cospicue. In buona sostanza sembra il punto di incontro fra le prigioni degli anziani e le boss fight attivate con le rune sull'astrocorazza. Ci saranno tre diversi gradi di difficoltà, ma come ottenere le cellule siva di grado più alto e quali siano le ricompense ottenute è ancora un mistero. Per scoprirlo non ci resta che attendere qualche giorno, Rise of Iron è ormai addirittura di arrivo e con lui l'anno 3 dello sparatutto Bungie. Il nostro primo contatto con l'espansione ci ha riempiti di curiosità ed entusiasmo, soprattutto perché, al pari di The Taken King, le varie attività possono potenzialmente tenerci impegnati per qualche mese. Non crediamo che le nuove aggiunte possano traghettarci senza alcuna pausa fino all'attesissimo Destiny 2, che dovrebbe veder luce nel 2017, ma siamo convinti che l'espansione potrà rappresentare un bel ritorno di fiamma per tutti, anche per quei giocatori che hanno saltato l'avvento di Oryx.